Il prossimo campionato, Alvignanga, corto, poi la tapina che non va, c'è rimbalzo, e l'affondata di Silver Bryan, la gioia dei tifosi Eurobraneta. Sola di casa, ancora due fanno da spondere per la formazione di Mazzon, Silver Bryan, un'unità. Questa carriera con lo stacolo di passaportato, grazie al matrimonio con l'italiana di cui vi parlavo. Pesca nell'angolo, libero Clark, si incunia nella difesa, lo scarico per Mene, l'errore, il rimbalzone di Bryan che va a segno. Un elemento fondamentale nell'attacco veneziano, questo primo per Bryan, che non è proprio uno specialista, vola anche il secondo.